Il Banco di Napoli non muore perché è una banca che non funzionava, muore perché è una banca che dava fastidio alle banche e alle imprese del nord. Il Banco di Napoli era il nostro vero orgoglio, era un vero sostegno per il meridione. Si facevano prestiti alle piccole e medie imprese a prezzi veramente di favore. Mi ricordo l'aereo a cui scese Maradona, se non si faceva l'acquisto del giocatore in poco tempo ci sarebbero state altre dieci società pronte fuori. Il Banco rischiò questa cifra. Il Banco era il tappabuchi di tutti i guai che succedevano a Napoli. Il 26 novembre lo storico Banco di Napoli è stato interamente inglobato nel gruppo milanese Intesa San Paolo. Dopo il fallimento degli anni 90 il Banco di Napoli perderà anche il suo nome. Dopo 500 anni di storia cala definitivamente il sipario sul più importante istituto di credito del meridione. Siamo davanti alla sede del Banco di Napoli, uno strumento finanziario per l'economia napoletana costituito nel 1463. Il Banco di Napoli non muore perché è una banca che non funzionava, muore perché è una banca che dava fastidio alle banche e alle imprese del nord. La nostra banca fino agli anni 90 era fra le principali banche italiane. nei primi posti fra le banche mondiali era un vero sostegno per il meridione. Nel 1996 si è decisa la vendita del Banco di Napoli. Diciamo la svendita, diciamo la rapina perché ci siamo trovati gli ispettori della Banca d'Italia con un mandato preciso, quello di definire i nostri crediti irrecuperabili, il che non è stato vero. Questi miliardi e miliardi sono stati recuperati. Il presidente della Banca d'Italia, Ciampi, decretò crediti inesigibili, ma stranamente l'agenzia di credito, la SGA di Napoli, ha recuperato il 90%, sono quasi 6 miliardi di euro che sono andate a finire ad ingrassare il San Paolo di Torino. Carlo Azzeglio Ciampi portò alla svendita del Banco di Napoli per salvare la BNL. Che cosa c'era all'orizzonte? Il crollo di un'altra banca, la BNL. In qualche maniera c'era chi voleva salvarla. Si decide di vendere a BNL e INA il Banco di Napoli per 61 miliardi. Dopo poco tempo, BNL rivende il 56% della banca per 3.600 miliardi. Insomma, nel giro di un paio d'anni, in cui non erano successi miracoli, non era successo niente di straordinario, i 61 miliardi si moltiplicano per mille. Mi sa, c'era stato un colpo di bacchetta magica. Salviamo il Banco di Napoli! Salviamo Napoli! Il Banco di Napoli era il nostro vero orgoglio. In ogni città del mondo avevamo palazzi, non sedi. E dovunque si andava c'era questo vestillo che rappresentava una storia plurisecolare della quale potevamo andare fieri. Mancavano i soldi al comune perché non si possano pagare gli stipendi questo mese. Il Banco era il tappabuchi di tutti i guai che succedevano a Napoli. L'assistenza all'agricoltura della nostra terra, parimenti, nell'ambito del credito industriale che va dalla costruzione dell'edificio fino a quello dei grandi stabilimenti. Il Banco ha fatto grandi attività. Sono passate per il credito industriale tutte le iniziative del Meridione. Mi ricordo l'aereo nel cui scese Maradona. Se non si faceva l'acquisto del giocatore in poco tempo, ci sarebbero state altre dieci società pronte fuori a sganciare un equivalente di questi 7 miliardi famosi. Il Banco rischiò questa cifra impegnandosi a pagare. Si facevano prestiti alle piccole e medie imprese a prezzi veramente di favore. Se è una banca territoriale, togli questa facoltà e la dai a una banca del nord. E' chiaro che stai uccidendo, stai facendo un danno incredibile alle imprese e quindi al territorio. Quando c'era una banca vicino al cliente che assisteva il cliente per le sue esigenze, gli veniva incontro per il mutuo, per il prestito, si chiamava anche il prestito di soccorso. Ma era un vero soccorso. Oggigiorno a chi ci si rivolge? Allo strozzino, a chi fa l'usura. Quando il Monte dei Paschi di Siena doveva essere incorporato, la città di Siena insorse. Noi napoletani abbiamo dimostrato ancora una volta di essere indegni eredi di una tradizione nobilissima della quale ci saremmo dovuti dire orgogliosi. La presenza delle pochissime persone qui oggi ne è la fulgida, triste, squallida testimonianza. Grazie. 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 Grazie.